Per suonare il brano uno di quei giorni, sistema la mano in posizione di mi, pollice sul mi, indice sul fa, medio sul sol, anulare sul la e mignolo sul si. Fai attenzione perché in questo brano oltre alle semi-minime e alle crome ci sono delle pause, dovrai rispettarle, pause di semi-minima e pause di minima, che ti ricordo hanno la forma di un cappellino. Grazie a tutti. Ripetizione